...una stima complessiva, ecco, media di quelli che sono, e quindi chiaramente tra questi ci sono dei beni che possono anche, diciamo che tra dieci anni ci saranno dei beni che non ci sono ora, no? Pensa, dieci anni, quinti anni fa c'era il telefonino, forse c'erano i primi, adesso c'è nel paniere, venti anni fa non c'è. Noi abbiamo ritenuto che la gotuta spaziale di un avieno è un evento molto improbabile, quindi... Per ora, per ora... Non sappiamo se fra cento o duecento anni magari nel paniere dei prezzi verrà messa anche la tuta spaziale di un avieno, adesso no. La tuta spaziale forse sì, l'alieno magari. L'alieno non lo so, dipende, c'è il mangioreggio. Procediamo con la... Questa ragazziva mi rendo conto. Procediamo con la domanda numero 5. Guarda Augusto, ti volevo dare un aiutino, c'è scritto sopra poi quel numero... No, 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 era tutta scena, eh, ho visto, ma... Ho voluto una prezza perché non è tutta la scompagna. Peno male, eh, questa... Va bene. Allora, squadra, quella famosa della... Allora, la... Allora, la...